Cosa dicevi del reddito di cittadinanza, scusami? Quando lo prendiamo? Chi è che deve prendere il reddito di cittadinanza? L'ho sentito di Mario dire che... Di Mario l'ha detto? Eh. E dov'è che l'hai sentito, se... Alla televisione. Ah, chiede. Cosa prende il reddito di cittadinanza? Ogni italiano che non lavora, ogni mese... Eh. E' dato il milieo. Eh. Allora, questo va al sud. Ma è al sud. E cosa fai al sud? Prende il reddito di cittadinanza, no? Eh, sì. La macchina. Sì, sul balcone. Ma la fine del mese. Ma lo prenderebbe l'euro. E poi andrebbe bene così? Eh. Se ti prego così, che fanno così. Il sud non lavora più nessuna. E' un po' al mondo. Lo lavora più. Eh, sì. Il sud si prende un milione euro e mezzo. Fanno lavorare solo a me. Eh? E' un po' al mondo. No. Eh? No. Eh? 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 Grazie a tutti